L'Unione Europea può essere vista come la forma più estrema di multilateralismo che esiste al mondo e che quindi mi viene da dire non riesce e non potrà sopravvivere in un ordine globale che non sarà multilaterale in natura. Uno dei termini che è stato molto utilizzato negli ultimi anni è il termine della resilienza. Sostanzialmente è l'abilità di un ente internazionale, diciamo a questo livello, ma in realtà è un termine che nasce proprio da una definizione della condizione dei metalli, cioè un metallo resiliente è un metallo che si piega senza spezzarsi. E quindi l'abilità di reagire a quelle che possono essere delle crisi, degli shock, dei traumi e ritornare non nella forma identica a quella del passato, perché non si ritorna mai esattamente al passato, ma in qualche modo diciamo di reagire, di reagire e quindi di riadattarsi. E quindi in che modo può l'Unione Europea continuare a promuovere un ordine globale basato su regole certe, su norme più o meno condivise e comunque multilaterale, in un mondo in cui molte delle grandi potenze in ascesa o comunque ancora esistenti iniziano poi a contrastare questo modo di interagire diciamo nelle relazioni internazionali. Allora io credo che l'unico modo per quadrare questo cerchio sia attraverso l'integrazione differenziata e quindi in qualche modo l'istituzionalizzazione di quella che è già attualmente una prassi, perché già oggi abbiamo euro e non euro, già oggi abbiamo Schengen e non Schengen, già oggi abbiamo PESCO, quindi la cooperazione strutturata permanente in ambito di difesa, chi c'è e chi non c'è. Quindi in che modo rendere questa differenziazione che è già una realtà dell'Unione anche dargli appunto una forma istituzionale e quindi anche politica e quindi questo, purché imperfetto, perché poi tutto ahimè è imperfetto in politica, potrebbe essere l'unico modo per continuare a portare avanti un discorso di allargamento ai Balcani occidentali e al tempo stesso assicurarsi che ci sia una reale Unione politica nell'Unione Europea. Perché tutto questo è importante per i ragazzi, per le nuove generazioni? Qual è il senso per voi dell'Unione Europea? E credo, e qua ritorno un po' al punto di partenza, credo che quel senso sia proprio un senso globale. Cioè se in qualche modo dobbiamo immaginare a come, quanto cittadini possiamo proteggere e promuovere i nostri interessi, ancora prima dei valori mi viene da dire, è evidente che uno Stato membro, anche uno Stato membro relativamente grande come l'Italia, non riuscirà mai a far valere la propria voce. E questo è un discorso che si può applicare a temi di sicurezza, a temi economici, a temi, non so, di cambiamenti climatici. Cioè a me è evidente che in qualche modo nel ventunesimo secolo, essendo comunque un mondo sempre più integrato, il peso e le dimensioni contano e contano sempre di più. E quindi questo a mio avviso è il vero senso dell'Unione Europea oggi. Che ripeto, è una narrazione, è una razio molto diversa da quella che era la razio dei nostri genitori o dei nostri nonni, che ahimè è una bella idea, ma purtroppo è un'idea che ad oggi tocca poche corde. Mentre invece credo che questa logica, diciamo, di necessità di far valere la propria voce del ventunesimo secolo sia una logica che appunto ci può piacere oppure no all'Unione Europea. Però ahimè ne abbiamo bisogno tutti.